Il messaggio che voglio dare innanzitutto è no alla violenza sulle donne, quindi comunque la donna va rispettata sempre e la donna è bella, quindi anche la bellezza della donna intesa proprio come bellezza anche interiore e non solo esteriore. C'è gioia e consapevolezza nel tributo che l'artista Lady B dedica alle grandi star. Nefertiti, Mona Lisa, Sofia Lora e la Apple, Madonna e Merlin non perdono fascino neanche se fatti di plastica e oggetti di recupero, ricordandoci che la bellezza non è data tanto dall'apparire quanto dall'essere.